Buon pomeriggio e ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città edizione culturale. Come sempre vediamo subito che cosa ci riserva la serata partendo da un appuntamento musicale. L'appuntamento è oggi con la musica classica, con il Requiem di Mozart che viene eseguito questa sera al conservatorio Giuseppe Verdi alle ore 21. Requiem in re minore per soli, coro e orchestra. Passiamo al teatro, grandi regni, danze degli eroi, undicesimo festival afro e oltre e altro al Limone Fonderie Teatrali. Un festival primo in Italia per la sua specificità con una programmazione che spazia in vari stili, porta a Torino spettacoli che rappresentano le correnti più significative della cosiddetta danza d'espressione africana. Questa sera alle ore 21, danze, musiche e canti tradizionali con la prima nazionale del Ballet National du Senegal, la Linguer. Passiamo invece alla musica leggera, appuntamento questa sera alle ore 21 con Francesco Renga che si esibisce al Teatro Colosseo in via Madama Cristina 71. Per questo oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, come sempre ci vediamo domani alle 16.15, vi auguro una buona sera.